Il piano del generale Zeljus si rivela vincente e riesce a fiaccare il morale e l'impeto dei Laguz. Scrimir accetta la sfida di Zeljus a uno scontro faccia a faccia e a stento riesce a sopravvivere. La sua sconfitta alimenta incertezze e timori all'interno dell'alleanza dei Laguz. Consapevole che la situazione sta precipitando, Ranulf ordina una ritirata generale. Nei tre giorni concessi loro da Zeljus, i Laguz riattraversano il fiume Riban e iniziano il lungo viaggio di ritorno in Gania. Il piano del generale Il piano del generale Il piano del generale Grazie a tutti. 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 a tutti.